cross shape sono nuovi modelli per la famiglia all mountain per gli sciatori più sportivi questi modelli sono realizzati con strutture in legno e costruzione sandwich questa linea di prodotti è caratterizzata da due modelli un modello destinato per archi di curva medi ed ampi mtx è un modello destinato ad archi di curva brevi stx sulla coda è presente un rinforzo tridimensionale chiamato diffusor che serve per conferire un comportamento più sportivo in uscita di curva